Dalle segreterie di CGL Cisle e Will giungono forti critiche sull'operato del governo regionale che ha deciso di non attivarsi in relazione alle richieste d'incontro da loro avanzate per discutere i problemi del Molise. Arrivano dai segretari confederali regionali di CGL Cisle e Will alcune considerazioni su quella che chiamano distrazione del presidente Donato Toma il quale a loro avviso parla molto ma ascolta poco volendosi riferire al fatto che ha completamente ignorato le loro richieste ordinarie di incontro per dialogare su argomenti che riguardano le sorti di migliaia di lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e cittadini molisani. I tre segretari ritengono si sia arrivati al punto di non ritorno. Danno un giudizio molto critico quando affermano che la verve dell'uomo solo al comando, più volte messa in mostra dal governatore del Molise, non è più tollerabile in un sistema che dovrebbe essere di normali relazioni con i rappresentanti di buona parte dei molisani. In realtà nemmeno le relazioni con pezzi di partenariato seguono una logica inclusiva che pure sarebbe indispensabile, soprattutto in una fase di crisi sanitaria ed economica come questa attuale. Le richieste sono state tutte disattese, perfino quelle in cui si era disponibili a vere e concrete condivisioni di responsabilità per la gestione delle diverse emergenze, prima di tutto quella sanitaria. Un presidente, scrivono, che trova tempo per tutto, ma non trova tempo per discutere con i sindacati. Ed è per questo che i rappresentanti di CGL, Cisle e Will avvertono che nei prossimi giorni programmeranno azioni di presidio e mobilitazioni mirate di denunce verso quelle che chiamano le intollerabili assenze del presidente di una regione che ha molte emergenze da risolvere, sanità, situazione sociale, scuola, trasporti e lavoro e che, come un superman nostrano, vuole gestire assolutamente da solo, reputandosi probabilmente l'unico in grado di vederci chiaro su tutto e soprattutto su tutti.